Agenzia a pratiche auto di Michele Ritoli Assicurazioni, trasferimento di proprietà, immatricolazioni, demolizioni, duplicato dei documenti, rinnovo e duplicato patenti Tutto questo a San Nicandro Garganico in via Don Luigi Sturzo, telefono 0882 47 45 07, cellulare 328 10 63 78 4 Buon pomeriggio amici e rieccoci qui a questa nuova edizione di DG San Nicandro Partiamo come sempre dalla cronaca, dal maltempo che si è abbattuto nella scorsa notte qui sul San Nicandro Garganico dei forti venditi burrasca hanno interessato la nostra città creando qualche piccolo danno Possiamo vedere anche delle fotografie, qui c'è un ramo spezzato sul corso e parecchi vasi e ticole che sono cadute dai tetti Il maltempo continuerà a stare sulla nostra città, in particolare i venditi di burrasca che dureranno per le prossime 24 ore circa con mari molto mossi e appunto pericolo di eventi simili in paese Quindi vi invitiamo a prestare attenzione Passiamo avanti l'incendio di abitazione in via Settembrini Un cerino acceso è la causa dell'incendio Vediamo il servizio di Domenico Masco Si è sviluppato nella tarda mattinata del 3 novembre un incendio presso un'abitazione in via Settembrini Le cause sarebbero riconducibili ad un cerino lasciato acceso nella camera da letto Unica stanza fortunatamente interessata dalle fiamme Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione per la messa in sicurezza della zona e alcuni volontari dell'Avers protezione civile Successivamente è giunta sul posto una squadra di vigili del fuoco proveniente da Sansevero accompagnati sul luogo dalla battuglia della polizia locale L'incendio è stato tamponato inizialmente da un vigile del fuoco discontinuo non in servizio che, grazie ad un estintore, è riuscito a limitare il propagarsi delle fiamme per poi essere estinte completamente dalla squadra di Sansevero Fortunatamente non ci sono stati feriti Come sempre, la rapidità ha giocato un ruolo fondamentale per evitare la propagazione degli incendi La pecca resta la mancanza di un mezzo antincendio a San Nicandro Garganico visto che si è costretti ad attendere l'intervento dalle squadre provenienti da Sansevero e, nel peggiore dei casi, da Foggia o da Vico del Gargano attesa che potrebbe costare caro alla nostra città Parliamo ora della cerimonia del 4 novembre il ricordo dei tutti delle guerre e la festa delle forze armate Vediamo il servizio di Piero Vogale Si è tenuta lo scorso 4 novembre l'ormai consueta cerimonia per la commemorazione dei caduti in guerra unita con la festa delle forze armate Verso le ore 10 è giunto in piazza 4 novembre il corteo delle forze armate e di polizia composto dai carabinieri, il corpo forestale dello Stato la guardia di finanza e la polizia locale accompagnati dai rappresentanti dell'amministrazione comunale presenti anche esponenti dell'Avers Protezione Civile della Croce Rossa Italiana e dell'Avis Contemporaneamente sono giudde in piazza diverse classi provenienti proprio dall'istituto scolastico di piazza 4 novembre guidata da alcuni docenti e dalla preside Vaira A dare inizio alla commemorazione ci ha pensato l'assessore alla cultura e all'istruzione Lorena Di Salvia che ha salutato tutti i presenti e lasciato la parola alle scolaresche che hanno esposto elaborate testimonianze in merito alla quotidianità dei soldati in guerra lanciando messaggi di amore e pace per poi concludere con l'inno nazionale Si è passati dunque alla celebrazione vera e propria con Don Roberto De Meo che ha guidato i presenti in un momento di preghiera per poi procedere alla benedizione della corona di Alloro deposta poi dai volontari della Protezione Civile sotto la lapide dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale il tutto seguito dal discorso di chiusura da parte del Vice Sindaco Costantino Ciavarella e dall'assessore Di Salvia La cerimonia è poi proseguita presso il cimitero dove Don Roberto ha ufficiato una messa presso la Cappella Maggiore dell'Arciconfraternita del Santissimo Rosario che ha visto una numerosa partecipazione Doveroso infine un saluto alla tomba del generale Palmieri con la deposizione di un mazzo di fiori e il saluto delle autorità presenti Parliamo ora di musica perché Michele Gioiosa sarà presente alla Masterclass a Castle dove fare delle lezioni sulla prassi esecutiva dell'epoca con diversi minuetti piccoli preludi e invenzioni a due voci sul pianoforte moderno ma nella versione storicamente informata Le due esecuzioni sono disponibili per l'acquisto online con la partecipazione di Alessandro Bucca al Clavicempo Passiamo allo sport il calcio con l'ASD che rimedia ancora una sconfitta in trasferta ottime invece le prestazioni delle squadre giovanili vediamo il servizio di Domenico Mascolo Sconfitta Amara per la prima squadra dell'ASD San Nicandro che perde per una rete ad Andrea per un rigore dato nei minuti finali della partita una partita ben giocata dei Biancocelesti che hanno il solo demerito di non riuscire a trovare la via della rete Vanno meglio invece le squadre giovanili Gli allievi si sono imposti sul campo di San Marco per tre reti a uno mentre i giovanissimi al campo comunale hanno avuto gioco facile contro il San Pietro rappresentativa di Vico del Gargano vincendo con tre reti di scarto e ancora con lo sport perché domenica parte il campionato di terza categoria sotto la guida di Enzo Luciano la squadra che è lo Sporting San Nicandro quindi sarebbe in questa competizione e noi facciamo un bocca al lupo per questa stagione chiudiamo ricordandovi che domenica in piazza 4 novembre ci sarà l'AIRC che dalle 9 in poi venderà dei cioccolatini e il ricavato andrà sempre in beneficenza per la ricerca al cancro Questa è l'ultima notizia per oggi io vi do l'appuntamento a venerdì prossimo una nuova edizione del nostro telegiornale grazie per la visione buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti